Tantissime sono state le persone importanti, Possa, stasera due amici come Maria Chiara e Enzo, la mia compagna Liz, mia mamma, ma devo fare un omaggio a una persona senza la quale non sarei qui assolutamente questa sera. L'autista dell'autobus 46, che porta a casa mia. Ho fatto un viaggio con lui e ho cercato di mettere in Divina Commedia tutto il suo amore per il traffico cittadino, per le vertenze sindacali e lui che parla in Divina Commedia, pezzo. Guardate la targhetta o voi che entrate, v'è scritto che il mestiere del conducente non è quel da ascoltare vostre minchiate. O massa di maial chiamata gente, grappata a yurikechica maniglia, yurikechica maniglia che ignora il Neutro Roberts detergente. Perché? Ma puoi ridere, è uno spettacolo comico, non ti preoccupare. Beh, i selfie, beh lì, mani in mano, beh lì, te pagò, beh lì. Perché... Scusa, ma... Abbiamo dello scotter, qua che la signora si piscia addosso. Perché ad ogni buca che si piglia, invece di ingiuriare chi amministra, voi sempre sfanculiate mia famiglia. Io so' un traghettator caronte autista e se veggio qualche dunque borseggiato mi faccio i falli miei, o per mia pista. Ma un tratto, un vecio in panda, cappellato. Tagliommi la corsia e tiro il freno ed anca un bestemmion polifonato. S'indigna ricca sciura al grido sceno. Ma è il caso bestemmiar? È guidatore. O dama che del fallo fai a meno. Bombata in botulinico ripieno, che hai seno ormai strusciante in sul terreno. Se vuoi viver di più e inquinare meno, non romperci i coglioni e prendi il treno. O autobus mestier che fa sclerare, otto ore di marrone o so balzare. E son ferma da mezz'ora ad aspettare, e poteva far marchette a rotondare. Partenza a capolinea e ritornare, e dentro l'estate devo pisciare. Vorrei a quel paese, vuoi mandare, usando la corsia preferenziale.